Un gol per tempo, ovvero al 34esimo Papaleo, poi Corasenti praticamente chiudono il blocco del 2-0 contro un Real Pianopoli davvero in forma. Noi partiamo subito con il gol, quello del primo tempo. Lo state vedendo perché tutta l'azione si svolge nell'area del Real Pianopoli. C'è la testa del capitano di Spadeo, poi c'è il tocco lesto davanti al portiere Mascaro del bomber Papaleo per il primo gol. 1-0. Ma prima del secondo tempo sentiamo il portiere ospite, Mascaro del Real Pianopoli. Verissimo, abbiamo dato una buona impressione però alla fine i due gol contano, bisogna metterla dentro alla fine. Aver trovato un Davoli, che genere di Davoli avete trovato? È una squadra tosta, su tutte le partite del campo è messa bene, alla fine giocano la palla a terra, non la buttano, sono grintosi. È una squadra da prima in classifica. Le squadre di Marotta ci hanno abituato a vedere un bel gioco in campo e poi raccolgono bene. A questo punto pensate che è bene un'inversione di tendenze? C'è giocare anche male e guadagnare qualche punto in più? No, per quest'anno a noi ci basta giocare bene, fare bene, formare il gruppo e poi magari l'anno prossimo puntiamo un po' più in alto. Alla fine quest'anno stiamo facendo un buon campionato. Questa è l'analisi, sicuramente un Real Pianopoli pimpante, comunque va giù per il 2-0 nel secondo tempo. C'è un'azione abbastanza concitata, sicuramente la vediamo meglio perché c'è l'affondo, c'è il tocco comunque di Corazaniti che praticamente trafigge Mascaro. 2-0 che significa anche il consolidamento della classifica, capoclassifica, il Davoli del Girone. Ma noi per l'analisi sentiamo il capitano voce appunto del Davoli. Ma io non penso, se reggiamo prima di ogni cosa come gruppo, perché abbiamo un gruppo solido, fortissimo, penso che non abbiamo problemi su questo campionato. Poi alla fine abbiamo incontrato quasi tutti e i risultati sono arrivati, abbiamo lavorato bene, lavoriamo bene tutti i giorni. La cosa che ci distingue secondo me è il gruppo, siamo un gruppo veramente fantastico, dei ragazzi affiatati e niente, penso sia quella la nostra forza. Noi abbiamo paura solo di noi stessi, non abbiamo paura di nessuno. Abbiamo parlato del gruppo, la forza del Davoli, ma Bellocci e Parisi possono dare il classico valore aggiunto a questa squadra di per sé già forte? Sì, Bellocci e Parisi sono la ciliegina sulla torta, noi abbiamo delle basi solidi, abbiamo veramente dei giocatori che ormai sono i pilastri portanti di questa squadra. Poi con l'avvento di Parisi e di Bellocci abbiamo dato quel tocco in più che alla fine si vede anche in campo. Poi abbiamo un gruppo che è anche fuori dal campo, perché siamo in 25-26, non c'è nessun problema tra di noi, siamo tutti affiatati, ci rispettiamo. Penso che questa sia la forza di una squadra, perché alla fine abbiamo incontrato anche squadre che, forti, forti, sinceramente ci hanno messo in difficoltà, ma noi con l'umiltà abbiamo fatto delle vittorie fuori casa, come voi sapete, non indifferenti e non di misura, quindi vuol dire che c'è, c'è, il Davoli c'è. Possiamo stare tranquilli fino a maggio, il Davoli ci sarà? Sì, ma anche oltre, senza problemi. Una partita comunque corretta che ha registrato una sfilza di cartellini gialli e due espulsioni, sicuramente una partita che poteva essere meglio gestita dalla signora Massara di Reggio Calabria che ha diretto l'incontro. Da Davoli è davvero tutto, la linea agli amici di Sport Live per il proseguo della puntata.